Papa Ratzinger, il papa teologo, il grande intellettuale Paolo Flores d'Arcais dice che Papa Ratzinger è stato fatto fuori la notizia è molto potente, io la leggo sul web la notizia appare su Libero Quotidiano, e ve la metto come linea il riassunto di questo video Vaticano, Josef Ratzinger doveva essere fatto fuori da uno dei suoi maggiori nemici ecco l'ultima drammatica conferma, capito? Perché? Perché? Beh, dopo undici anni il miglior assist a Papa Benedetto XVI no, non devi scrivere Papa Benedetto XVI, devi scrivere a Papa Emerito Benedetto XVI beh, dopo undici anni il migliore assist a Papa Benedetto XVI arriva da uno dei suoi maggiori nemici Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega deve essere molto potente questo Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega che in una opera intitolata La sfida oscurantista di Ratzinger del 2010 dipinge un panorama su come Ratzinger costituisse l'ostacolo principale a inarrestabili dinamiche globaliste cita così tutti i fronti della guerra intollerabile condotta dal Papa tedesco contro la modernità perché Papa Ratzinger sarebbe stato contro il globalismo, capito? come se Gesù non fosse un globalista Gesù Gesù voleva che il cristianesimo andasse in tutto il mondo Gesù voleva il globalismo ed è per questo che il nuovo Papa Papa Bergoglio voleva il globalismo il cristianesimo non può essere limitato ad una particina del mondo ma deve andare in tutto il mondo questo si chiama globalismo Paolo Flores d'Arcais dice che che il Papa Ratzinger conduceva una guerra contro tutto il mondo mondano la massoneria, le lobby, i cosiddetti poteri forti per cui Papa Ratzinger doveva essere per forza tolto di mezzo lo scrive quello che è un potentissimo intellettuale Paolo Flores d'Arcais direttore di Micromega a me viene da dire scusatemi a me viene da dire scusatemi a me viene da dire scusatemi scusatemi se lo dico viene da dire come si dice a Roma ma ma mi cojoni Paolo Flores d'Arcais e dice che è stato e come hanno fatto a farlo fuori Papa Ratzinger Papa Ratzinger ha dato le dimissioni e le dimissioni sono previste dal codice canonico Paolo Flores d'Arcais si vede che non te ne intendi del diritto canonico non te ne intendi il Papa Ratzinger il Papa Teologo che era stato un grande Papa ha dato le dimissioni che sono previste dal diritto canonico se poi le dimissioni non sono state esercitate dagli altri Papi tranne quel Papa la Celestino non sono state esercitate e questo è un altro paio di maniche capito? Paolo Flores d'Arcais ma che vai menando il camperlaia? ma che vuoi? un po' di notorietà Paolo Flores d'Arcais ma guarda che te la devi vedere con Serafino io so questo qua è Paolo Flores d'Arcais con me non si sterza sai c'è poco da sterzare con me Paolo Flores d'Arcais eh lo sai che io sono uno dei più potenti opinionisti opinionisti del web lo sai che io ho un perverso sul web dal 2007 ma lo sai Paolo Flores d'Arcais che io sto su Youtube Dailymotion Twitter Facebook ma tu non lo sai Paolo Flores d'Arcais che io su Youtube ho un canale che ha quasi 15.000 iscritti oltre 12.000 video oltre 10 milioni di visualizzazioni Paolo Flores d'Arcais altro che micromega che non se lo legge nessuno micromega io ho oltre 10 milioni di visualizzazioni Paolo Flores d'Arcais capito l'hanno fatto fuori l'hanno fatto fuori ma quale fatto fuori Papa Ratzinger il Papa Teologo ha dato le dimissioni perché era anziano e stanco e ha passato il testimone al nuovo Papa e quando voi parlate voi libro quotidiano Paolo Flores d'Arcais parlate di Ratzinger di Ratzinger non dovete chiamarlo Papa ma Papa Emerito si dice Papa Emerito io per esempio che sono stato preside di ruolo nei licei classici scientifici sono un preside emerito nel senso che sono stato preside ora sono un preside emerito e così quando uno è presidente della Repubblica e dopo finisce il suo mandato si chiama ancora presidente della Repubblica ma si deve dire presidente emerito della Repubblica per esempio Giuseppe Conte Giuseppe Conte che è stato premier premier emerito emerito ma anche Matteo Renzi anche Matteo Renzi è stato premier a Palazzo Chigi primo ministro primo ministro capo dei ministri si dice Matteo Renzi presidente emerito a Palazzo Chigi capito? capito? ma dico la conoscete voi la lingua italiana? lo conoscete il vocabolario? Paolo Flores d'Arcais ma che cosa vai a scrivere che che Papa Ratzinger è stato fatto fuori ma che volgarità poi che espressione è stato fatto fuori vabbè questo l'ha scritto libro quotidiano non so se l'ha scritto fare fuori fare fuori ma che volgarità no Papa Ratzinger si è dimesso era anziano era stanco si è dimesso e le dimissioni sono previste dal diritto canonico e tu ti riammenare il camperlaia ma dai Papa Bergoglio è un Papa Gesuita vuole il globalismo ma anche Gesù Cristo avrebbe voluto il globalismo hai capito? Paolo Flores d'Arcais potente intellettuale che te la devi vedere con Serafino Massoni che è uno dei migliori opinionisti del web a te a te Paolo Flores d'Arcais a Papa Ratz al Papa Emerito Ratzinger a Papa Bergoglio e a tutti voi tanti cari saluti da chi? ma 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 da Serafino Massoni che si presenta così a te a te a te